Confartigianato presente a quarto salone della responsabilità sociale e condivisa, si toccano due temi fondamentali, inclusione e coesione sociale, perché? La Confartigianato negli ultimi anni ha dato diverse volte prova di avere orecchie e cuore per ascoltare quelli che sono i bisogni emergenti e latenti del sistema, della società in cui è inserita e non a caso la collaborazione nata dal rapporto tra la Confartigianato e l'associazione di promozione sociale che pure rappresento è venuta fuori proprio da questa particolare sensibilità per il gruppo di imprese della Confartigianato per le tematiche relative all'inclusione sociale. La Confartigianato si è fatta più volte sponsor e sostenitrice di diverse progettualità finalizzate all'inclusione delle persone svantaggiate ed è questo il motivo principale per cui il forum della responsabilità è un'area di grande interesse per una realtà come la Confartigianato.